Non è passata la mozione di sfiducia al sindaco Corrado Ximone. I tre consiglieri che non avevano aderito alla sfiducia, ovvero Dario Antonazzo, Annunziata Trifilò e Ilaria Magliarditi, sono rimasti sulle loro opposizioni. Insufficienti voti dei nove firmatari, la seduta per la sfiducia si è svolta in un clima rovente con i firmatari che hanno sostenuto di rappresentare il malumore dei cittadini. Si è giunti persino a una sospensione dei lavori per riportare la calma dopo che il pubblico aveva cominciato a rumoreggiare. I nove aderenti alla mozione contestano al sindaco la mancata approvazione del bilancio, la perdita del finanziamento della scuola di Scala Torregrotta, la carenza dei servizi, la mancata cura del territorio e la tardiva pulizia della spiaggia, la carenza idrica, le opere rimaste incompiute come le tensostrutture e l'asilo nido, la carenza di loculi cimiteriali. Il sindaco ha provato a rispondere all'esternazione dei consiglieri firmatari della mozione di sfiducia a Scaglione, Foti, Mondi, Saporite e Cannistrae, Letti in maggioranza e Caselli, Gringi, di rigiunte mancuso della minoranza. Il primo cittadino ha anche reso noto un documento relativo alla riassegnazione del finanziamento della scuola di Scala, perduto per un ritardo dell'Urega. Ha aggiunto che aveva azzerato l'esecutivo lo scorso 25 maggio nel tentativo di formare un'aggiunta di salute pubblica che rappresentasse tutto il Consiglio, come gli era stato richiesto, tentativo bloccato da una proposta di sfiducia che ha comportato, a suo dire, anche un rallentamento delle iniziative avviate. Adesso il primo cittadino prova a ripartire con un'aggiunta tecnica senza alcun riferimento in Consiglio, nominata lo scorso 25 giugno e composta da Antonino Trimarchi, Vice Sindaco Francesca Lisa, Antonino Duca e Vincenzo Duca. Intanto, su richiesta del consigliere Scaglione, è stata rinviata l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale all'ordine del giorno della seduta, che è stata preseduta dal Vice Presidente Carlo Saporita, essendosi dimesso Dario Antonazzo, dopo lo scioglimento del gruppo civico di cui era espressione.